L'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Ecco, siamo riuniti come ogni domenica perché il Signore ci chiama, è lui che ci chiama, che ci ha chiamati anche quest'oggi per fare il memoriale della Pasqua. La parola di Dio che oggi ci viene proposta ci parla di un pane condiviso e la nostra vita al pari di quella di Gesù che deve essere condivisa con gli altri. Vogliamo allora all'inizio di questa operestia e per celebrarla bene chiedere perdono al Signore dei nostri peccati, ma soprattutto chiedere perdono al Signore se non sempre siamo riusciti a condividere con gli altri quello che siamo e quello che abbiamo. Signore, pane di vita nuova, purifica il nostro cuore da ogni germe animale e abbi pietà di morire.